Si chiama Ellison Orsby, ha 45 anni di età e pensate che si è sposata un uomo di 71 anni. Nell'ottano 1998, quando Costuini aveva 46, allora in pensione ha fatto una consegna al banco di peigni in cui lavorava all'epoca la ragazza di 20 anni. La donna ha sposato l'uomo di 26 anni più grande di lei, ha rivelato che le persone pensano che siano parenti, in realtà c'è stato un matrimonio tra lui e lei, tra lei e lui. Ci sono molti anni di differenza di età, sono ben 26, sembrano pochi, in realtà sono veramente tanti, anche perché 26 anni di età di differenza in una coppia si sentono e come differenze rivedute, riflessioni diverse, un cervello diverso tra lui e lei, attività che svolgono diverse, però sembra che la coppia sia ben collaudata nonostante gli anni di differenza. Vivono entrambi in Florida, negli stati d'America, 5 figli, la coppia si rivela più che determinata e più che innamorata, anche perché sembra proprio che accetti e accettate di buon grado di stare insieme ancora oggi a livello temporale. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivervi, commentate e ciao!